Hai anche tu un'agenzia viaggi e stai pensando a come promuoverla per ottenere più clienti? Come fare del marketing online per ottenere più fatturato dalla tua agenzia? Beh, in questo video ti darò 4 consigli di marketing da applicare subito anche per conto tuo per ottenere più fatturato, più clienti con la tua agenzia viaggi. Io sono Luca Faccin di Performance PPC, mi occupo di advertising e marketing online dal 2018 e oggi ti porterò qui l'esperienza che abbiamo avuto con diverse agenzie turistiche. Prima di partire permettimi di presentare il mio team. Siamo un team specializzato in media buying, quindi acquisto di traffico a pagamento, campagne pubblicitarie online. Il team è composto da diversi professionisti, siamo Google Premier Partner, quindi lavoriamo molto bene con Google ma anche con Meta e tutti gli altri canali pubblicitari online. I nostri servizi vanno dal servizio Done For You completo fino alle consulenze o alla formazione. Eccoci qua, questo è mio fratello cofondatore di Performance PPC. Abbiamo anche scritto 4 libri che puoi trovare su Amazon con i titoli di il manuale della promozione per l'e-commerce, il manuale delle campagne di online advertising, il manuale della strategia di lead generation e il manuale della strategia di digital marketing. Abbiamo anche partecipato a diversi eventi come speaker e presentatori e spesso presentiamo casi studio in giro ad eventi e community che ci invitano. Ecco quindi direi ora è il momento di partire, condividerò con te delle slide proprio per guidarti in 4 consigli pratici di marketing che puoi applicare immediatamente per ottenere più visibilità, quindi più contatti e potenzialmente più vendite dalla tua agenzia viaggi. Ripeto, noi abbiamo seguito diverse agenzie viaggi e abbiamo anche in questo momento attivi dei clienti di questo settore e da questi abbiamo ricavato un po' le strategie basiche, più semplici da applicare e che possono ottenere più risultato nel breve termine. Andiamo quindi a vedere la prima, primo consiglio. Parti con delle campagne Google locali. Sai che Google è un canale che presenta tanti punti di contatto con i tuoi clienti, dalle ricerche che le persone fanno su Google per cercare un'agenzia viaggi fino alle mappe di Google dove le agenzie si trovano appunto in Google Map e le persone ci vanno fisicamente seguendo le indicazioni stradali fino alle campagne pubblicitarie per esempio su YouTube che appartiene sempre a Google o sui banner che possono vedere in tanti siti online che pubblicizzano le pubblicità proprio tramite i canali di Google. Quindi Google non è solo la ricerca che si fa nel browser web ma è un ecosistema di canali online molto ampio che possiamo sfruttare per promuovere la nostra attività locale. Infatti ti ho messo campagne Google locali perché la particolarità è che noi possiamo concentrare il nostro budget pubblicitario su un'area geografica molto ristretta attorno alla nostra agenzia potenzialmente. Quindi potremmo fare delle campagne su un raggio di 20-25 km attorno al punto in cui ci troviamo. Premesso, se non l'hai ancora fatto ti consiglio di registrarti a Google Business Profile che ti permette di creare il tuo profilo business su Google quindi di far sapere che la tua attività esiste su Google Map e dove si trova. Quindi questa è una premessa abbastanza fondamentale. Dopodiché potrai crearvi le campagne per esempio Performance Max che sono un particolare tipo di campagna molto semplice da utilizzare che ti permette di impostare in maniera autonoma una campagna pubblicitaria che va su tutti i canali di Google. Quindi con un'unica campagna sei presente in un ecosistema completo in un raggio di 20-25 km dalla tua zona. La campagna Performance Max si va a impostare molto semplicemente dal vostro account Google Ads e sostanzialmente ci chiede il nostro sito web, quindi l'URL del nostro sito web e poi una serie di immagini, loghi della nostra attività, video se ce le abbiamo e soprattutto titoli degli annunci e testi degli annunci. Poi la campagna andrà a utilizzare tutte queste informazioni che vi abbiamo dato per creare in maniera autonoma degli annunci pubblicitari che andranno a finire in vari posizionamenti online come vi ho detto prima, mappe, YouTube, ricerca, siti web vedete questi sono i vari canali che andrà a coprire quindi noi inserendo immagini, video, titoli e descrizioni avremo degli annunci più o meno efficaci in base a quanto bravo siamo a scrivere e qui ti farà vedere delle anteprime degli annunci pubblicitari questa è una campagna che girerà sul raggio di 20-25 km quello che vorrai tu come obiettivo avrà come obiettivi le chiamate quindi le persone inizieranno a chiamarti dagli annunci sul numero che hai inserito le indicazioni stradali quindi inizieranno a raggiungere la tua agenzia viaggi seguendo la posizione nelle mappe o dei contatti dal tuo sito web ecco, tutto questo è misurabile cioè Google ci dirà ok, tu hai speso in questo caso io ho consigliato 5-10 euro al giorno almeno hai speso quindi per esempio 150-300 euro in un mese hai ottenuto 100 chiamate oppure 50 persone si sono recate nel tuo negozio seguendo le indicazioni stradali oppure hai ottenuto 100 contatti dal sito per fare un esempio quindi il bello e il vantaggio di queste campagne è che non serve essere tecnici ma possiamo andare a impostare abbastanza facilmente e sono focalizzate in un'area e ci portano dei risultati molto interessanti per le attività locali se avete difficoltà nell'impostare queste campagne potete compilare un modulo di contatto che troverete sotto questo video tramite link e contattarci vi aiuteremo con anche una prima consulenza gratuita di 30 minuti a capire come muoversi in questo mondo qua dopodiché se vorrai ti potremo affiancare in maniera più importante appunto con i nostri servizi quindi abbiamo anche servizi di affiancamento completo in cui andiamo a fare direttamente noi le campagne ma direi che ora andiamo al secondo punto quindi primo consiglio campagne Google locali andiamo al secondo consiglio pubblicazione post social questa è un'azione che non richiede un costo per la tua agenzia viaggi ma del tempo ok si tratta solo di pubblicare un paio di post a settimana però qui ti voglio dare un consiglio perché tutte le agenzie viaggi pubblicano i soliti post con le foto delle mete più ambite che sono più o meno interessanti a volte le prendono da cataloghi quindi non danno molto valore aggiunto al cliente noi invece dobbiamo cercare di creare un rapporto con il nostro cliente facendo capire perché la nostra agenzia viaggi è diversa e cercando di fare dei post che raccontino delle storie quindi quello che abbiamo visto funzionare molto bene nel settore del turismo è quello di pubblicare delle foto sì delle mete o dei nostri viaggi magari di gruppo ma specifici su dettagli su delle storie da raccontare quindi magari c'è questa foto in cui il nostro cliente era in una via a Barcellona piena di fioriere e noi raccontiamo poi la verità la storia che sta dietro quella via lì perché era piena di fioriere è un dettaglio che andiamo a raccontare che interessa molto di più l'utente piuttosto che il solito viaggio a Barcellona perché ogni viaggio poi ha delle piccole storie da raccontare all'interno delle grandi storie del viaggio ci sono sempre degli aneddoti interessanti su ogni località o su ogni esperienza che si è fatta che hanno fatto i nostri clienti quindi è importante riuscire a pubblicare abbastanza regolarmente uno o due post a settimana in cui andiamo a raccontare questi dettagli andiamo a raccontare i nostri viaggi attraverso dei dettagli con il nostro pubblico cercate che qui di tenere delle linee di colore ricorrenti che richiamino subito quella che è il brand della vostra agenzia in modo che anche solo vedendo con un'immagine, un post il vostro utente riesca a capire che siete voi quindi ricollegare alla vostra agenzia anche qui se avete bisogno di affiancamento noi possiamo darvelo perché abbiamo delle social media professioniste che sono in grado di pubblicare dei post per voi ogni settimana, ogni mese appunto semplicemente chiedendovi magari di materiali fotografici o possiamo produrre anche quelli e quindi non avete più pensieri avete i post che escono per voi tranquillamente quindi abbiamo visto secondo step secondo consiglio pubblicare post social questo ci permette di avere una presenza organica quindi essere trovati dai nuovi clienti e anche essere continuamente visibili nella mente delle persone sempre presenti terzo consiglio è sponsorizzare i post social infatti la visibilità organica dei nostri post cioè quella che arriva in maniera gratuita, naturale nei social lo vedete anche voi, è molto limitata magari ci avete messo un'ora per creare un post e poi avete un mi piace, due mi piace questo perché Facebook tendenzialmente mostra poco i post pubblicati nelle pagine si dice all'incirca un 5% dei follower vedono i vostri contenuti perché Facebook come tutti gli altri social lavora in verità con le sponsorizzate cioè con le campagne pubblicitarie quindi vi consiglio di spingere il post della pagina basta anche poco budget su un'area di 20-25 km avrete subito una grande visibilità perché sì, c'è una bella notizia e una cattiva notizia la bella, anzi prima la cattiva notizia è che in verità Facebook non è gratuito bisogna pagare per avere visibilità ma la bella notizia è che la visibilità costa poco cioè con 5 euro si raggiungono di solito mille persone che sulla vostra area potrebbe essere già un pubblico interessante quindi il mio consiglio è di mettere in evidenza i post per chi è meno esperto oppure creare delle campagne pubblicitarie per sponsorizzare i post su un'area sempre di 20-25 km poi dipende molto se siete in una grande città magari l'area è più ristretta perché ci sono milioni di persone se siete in periferia l'area è un po' più grande per prendere più persone quindi dipende dalla vostra zona con un budget vi consiglio tra i 5 e i 10 euro al giorno a post per durata di 3-4 giorni questo significa che se faccio 2 post a settimana io ho coperto tutte le settimane perché pubblico il post lo sponsorizzo per 3 giorni 4 pubblico un altro post lo sponsorizzo per 3 giorni 4 questo mi permette di avere per ogni post che pubblico tante tante interazioni tante visualizzazioni e quindi tanto interesse del pubblico che poi magari può decidere di recarsi in agenzia piuttosto che contattarvi online per chiedervi un preventivo quindi questa è un'altra arma segreta che pochissime agenzie viaggi utilizzano ve lo dico spesso pubblicano di post senza rendersi conto che merita non li sta vedendo nessuno quindi il terzo consiglio è sponsorizzare i post ora vado al quarto consiglio che è quello un po' più avanzato quindi questo riguarda il consiglio per gli advanced chi magari sta già facendo sponsorizzazioni post ha già iniziato a fare qualche campagna Google magari ha già iniziato a produrre dei materiali online ecco una cosa che potresti fare ulteriore per andare oltre la visibilità perché fino adesso abbiamo parlato un po' di avere visibilità nella tua area è quella di iniziare a raccogliere contatti ossia lead generation quindi il quarto consiglio è generazione contatti cerca di raccogliere i contatti dei tuoi utenti in modo da poterli ricontattare tu poi gratuitamente quando vuoi i contatti che cosa sono? sono nome, cognome, email e telefono questa è la base minimo dovresti avere questi contatti altrimenti diventa veramente difficile poi risalire o ritornare in contatto con il tuo lead perché qualcuno potrebbe lasciarti la mail sbagliata e quindi se raccogli solo la mail non riuscirai più a contattarlo piuttosto che potrebbe lasciarti il numero sbagliato avendo due contatti hai due canali puoi scrivere per email puoi inviare degli sms dei whatsapp chiaramente deve essere tutto a norma devono aver accettato di ricevere comunicazioni da te però sostanzialmente fare delle regeneration ci permette di creare un database di nostri clienti e potenziali clienti quindi una lista di persone che sono interessate ai nostri servizi ai quali nel tempo possiamo vendere altri viaggi e questa è una cosa fondamentale per un business il vero valore di un business online è il database clienti o potenziali clienti quindi come si fa a creare un database? dovreste intanto avere un software di CRM che vi permetta di raccogliere i contatti e gestirli ve ne posso consigliare per esempio per fare un nome basico per partire potrebbe essere MailChimp non lo traducco in italiano perché sarebbe imbarazzante insomma scimmia delle email o qualcosa del genere cercatelo online ma ce ne sono tantissimi potrebbe essere ActiveCampaign potrebbe essere Cartra che noi utilizziamo potrebbero essere tanti altri ripeto anche qua se avete bisogno di consigli contattateci commentate sotto questo video magari e vi risponderemo nel giro di qualche giorno seconda cosa che vi serve è creare delle campagne di Lead Generation in Meta sono campagne che queste molto semplici da creare quindi basta avviare una nuova campagna questa volta dal Business Manager stiamo parlando di campagne un po' più avanzate quindi va creata una campagna pubblicitaria per lead per ottenere lead con modulo di contatto integrato in Meta ricordo che Meta vuol dire Facebook e Instagram bene le persone vedranno quindi i vostri annunci pubblicitari in cui magari mettiamo una call to action di invito a una consulenza viaggi per esempio quindi mettiamo una bella foto con un viaggio che abbiamo fatto una storia da raccontare e poi sotto un invito all'azione ci sarà un pulsantino che ha scritto contattaci per fare una consulenza con un nostro esperto viaggi e consigliarti per il tuo prossimo viaggio senza nessun impegno le persone che vedranno questo annuncio potranno cliccare in questo bottone e lasciare il loro contatto direttamente in Facebook o Instagram senza uscire dalla piattaforma andare nel vostro sito o perdersi nei meandri del web ma vedranno un modulino direttamente nell'app di Facebook già con i dati precompilati e questo è un vantaggio quindi nome, cognome, mail, telefono sono già compilati devono solo schiacciare invia e a voi arriverà il loro contatto e li ricontatterete l'appuntamento poi potrete farlo fisico nella vostra agenzia viaggi oppure online in videochiamata o in telefonata normale e questo vi permetterà appunto di ottenere una serie di contatti che poi potrete anche ricontattare questa volta magari gratuitamente perché non dovremo più passare per la campagna pubblicitaria che è a pagamento ma avremo i loro contatti quindi potremo inviare magari le offerte del nuovo anno turistico quindi questa è una parte molto molto importante bene, con questo abbiamo concluso questi primi quattro consigli ricordo che le cose nel marketing vanno sempre testate, provate e poi appunto aggiustate strada facendo potrebbe essere che qualcosa funzioni di più per voi, qualcosa meno però queste sono un po' le cose basiche che abbiamo visto funzionare in tutte le agenzie viaggi ricordo che se hai bisogno di consigli puoi contattarci dal link che trovi qui sotto e potremo fare un check up gratuito per te quindi un'analisi della tua attività online per capire dove è migliorabile che cosa puoi fare per migliorarla con una consulenza gratuita di 30 minuti per il resto ti invito a fare queste attività, questi consigli che abbiamo visto e fammi sapere come ti sei trovato, che risultati ho ottenuto puoi commentare sotto questo video direttamente oppure scriverci tramite il sito web bene, con questo è tutto da Luca di Performance PPC ci vediamo nel prossimo video, grazie